Le classifiche dei tre gironi troviamo delle squadre inaspettate. Eh sì, diciamo dei tre gironi del campionato soltanto la Roma è quella che sta un pochino rispettando i pronostici nel girone C con 10 punti in 4 partite. Per il resto è un po' il campionato delle squadre di serie B perché nel girone A abbiamo con 12 punti l'Entella e lo Spezia, nel girone B il Cagliari sempre a punteggio pieno e nel girone C assieme alla Roma c'è la Ternana, allenata tra l'altro da un ex laziale come Stefano Avincola e nel prossimo weekend c'è proprio Roma-Ternana e quindi è il campionato delle sorprese anche se lo Spezia di Fabio Gallo è un po' la meno sorpresa delle altre avendo già raggiunto i quarti di finale lo scorso anno nel campionato eliminata proprio dalla Roma. Tra l'altro ecco Entella e Cagliari ma anche lo Spezia hanno belle storie alle loro spalle. L'Entella è una squadra che considerando che la prima squadra ha rischiato di non giocare la serie B perché era retrocessa poi nuovamente ammessa dopo i famosi casi di calcio scommesse di quest'estate e il discorso legato al Parma, un Entella che stiamo vedendo anche in queste immagini la presentazione di un settore giovanile che è molto curato dal club Ligure e quindi ha portato grandi risultati nell'immediato perché quattro partite, quattro vittorie è sicuramente un avvio importantissimo per la squadra bianca-azzurra ma soprattutto c'è appunto questa organizzazione direi perfetta di quello che riguarda il settore giovanile con 30 ragazzi, ci spiegavano 30 ragazzi fuori sede di cui 15 vivono in una casa famiglia per disabili tra l'altro ecco domani nel consueto approfondimento dedicato alle nuove forze del calcio sulla Gazzetta dello Sport avremo l'opportunità di parlarne dell'Entella così come del Cagliari che quest'anno ha scelto Mario Beretta come nuovo responsabile del settore giovanile